Per noi è una grande opportunità e sicuramente anche un grande motivo di orgoglio legarci a una concessionaria importante e soprattutto di un grande marchio perché il marchio Volvo è un marchio internazionale che si abbina al Sassuolo Calcio e questo sicuramente è un grande motivo di orgoglio perché è una grande casa, una grande azienda ed è un po' la politica anche del Sassuolo Calcio quello di legarsi sempre ad aziende top. Per cui ringraziamo la concessionaria del dottor Barbieri perché ci segue, ci dà questa grande opportunità e di questo ne siamo molto contenti. In questa squadra di calcio vediamo un bel futuro, non solamente calcistico ma anche di rapporti tra le persone. Grazie a oggi abbiamo anche l'occasione di avere qua i giocatori, il mister, i giocatori sono noti per il loro occhio clinico sulle auto. Sono sicuramente ragazzi che apprestano le belle automobili ma devo dire che la cosa che continua a sorprendermi è la qualità delle persone. Io guardo molto la qualità delle persone e trovo tutte persone veramente di grande livello, anche dei giocatori, da un punto di vista anche umano, dell'educazione e del rapporto con le persone. Marcello Gazzola, oggi siamo all'evento della presentazione del nuovo partner del Sassuolo Calcio che è la Volvo, sei alla guida e ai comandi della nuova XC90. Sì, è una bella macchina e diciamo che la gente si troverà sicuramente bene perché è una macchina di tutto rispetto ed è anche l'auto ufficiale del Sassuolo per cui è una bella vettura. Ti conosciamo come abbastanza esperto di auto, ti piacciono le belle macchine e oggi qua ci sono belle macchine. Sì, in particolare questa qua che mi interessa perché c'ha quattro posti e poi il tabagaglio è bello capiente, quindi molto affascinante. È bello vedere anche voi ragazzi, l'ultima cosa, vedere voi ragazzi della squadra partecipare con interesse anche a queste iniziative di marketing della società. Sì, fa sempre piacere, comunque siamo a disposizione della società che collaborano con queste aziende grandissime. Perché poi siamo qui? Ah, siamo qui perché Volvo è nostra... No, scherzi a parte, è diventato a parte del Sassuolo quindi siamo qui, ci fa piacere essere qui. Voi calciatori siete anche esperti, di auto avete sempre... La macchina è l'ultimo grido. È uno sfizio che tanti si fanno passare, io un po' meno rispetto agli altri però ne conosco tanti che impazziscono per le macchine. Senti, ma di questa macchina che è un po' la berlina dei Volvo cosa ci puoi dire, cosa ci puoi raccontare? No, vederla così si vede che è una grande macchina ma la cosa che mi ha stupito è che è spaziosissima cioè riesce a entrarci di tutto, anche nel bagagliaio, incredibile. L'automatico, l'anit che era comodo, ma pure un bagagliario è comodo.